Grazie! Grazie! E grazie a nome dei nostri figli! Grazie a nome dei nostri figli perché noi oggi siamo qua per lasciare i nostri figli un'Italia migliore rispetto a quella che Bruxelles e i servi di Bruxelles che lavorano a Roma ci stanno preparando. Noi non ci arrendiamo se non vi arrendete voi. Grazie! Siete in centavina! Fatevi sentire! Grazie! 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti!